e qui mi sorrita in modo di restare che c'è ginecativi durante i ginecativi il tempo interesse nel piede verso il cernello quindi la situazione oltre a essere schiettile può essere anche dannosa se il pilota non è affidabile che deve essere dannata durante l'applicazione dei ginecativi il pilota può avere la visione rossa dopo dal fatto che il sangue che accorce dentro il cervello in abbondanza fa dare il sangue, questo lo fa in un muro a coltello che mi vicino a città